In A11 code tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, un chilometro di coda tra Firenze Nord e Peretola verso Firenze. In A1 code a tratti per il transito di un trasporto eccezionale tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sulla FIPILI code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna e in uscita a San Mignato entrambe provenendo da Firenze. A1 code a tratti per il traffico intenso tra la Strassigna e Firenze e Scandici in direzione Firenze. Per la viabilità cittadina Firenze in via Senese all'altezza dei civici 93 e 95 restringimento di carreggiata con divieto di transito e veicoli con larghezza superiore a 1,80 m. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!